Ciao! Oggi vedremo un'altra anticipazione per la 2022-2023, la prossima stagione, la prima maglia del Ajax, la prima maglia di casa, nella versione FAN. La maglia HOME Ajax 2022-2023 combina il tradizionale bianco e rosso del club con rifiniture dorate presenti sul colletto, così come sullo stemma, e il logo dello sponsor Ziggo. Le tre stripes si trovano sulle spalle della maglia, colorate di rosso. Il colletto ha uno stile a V sovrapposto. Una maglia sobria e semplice, ma sempre circondata da un fascino incredibile. Gli insert in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati ed esserlo una delle iniziative di Atlas per la lotta contro l'inquilamento causato dai rifiuti plastici. L'Ajax rimane, secondo me, sempre una delle squadre con più fascino, anche se nel tempo ha perso un po' di quella forza che aveva in passato. Questa maglia, nella mia classifica, prende 4 stelle. Per me è più bella di quella dell'anno scorso. Vi ricordo che qua in alto trovate la recensione per poterle confrontare. Fatta molto bene, ha un costo direi imbarazzante, 14,58$. Devo dirvi che è stata veramente una bella sorpresa. In descrizione, vi ricordo, trovate le informazioni per poter acquistare la maglia. Anche la spedizione è stata molto veloce, è arrivata in 26 giorni. Peraltro io ne ho prese 4, quindi voglio dire, ha richiesto anche più tempo. Ora, prima di lasciarvi, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Lasciatevi nei commenti magari qualche richiesta per nuove recensioni. Ciao, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!